Siamo qui con Francesco Garagozzo che oggi ha presentato il suo sito ufficiale come agente FIPA E FIP diciamo, esatto, e per quanto riguarda il sito allora due parole sul progetto che hai fatto Sì, stasera abbiamo avuto il piacere di presentare davanti a tanti amici, davanti ai ragazzi, ai genitori, alla stampa, alla tv È stata una bella cosa perché per la prima volta un sito internet, un procuratore di calcio e di basket porta il suo nome Non si è mai visto, di solito sono delle agenzie o cose di questo genere Noi invece ci abbiamo dovuto mettere la faccia, come sempre E soprattutto abbiamo messo l'atleta al centro di questo progetto Che l'atleta ovviamente deve tentare a giocare, a fare il professionista nel migliore dei modi Però per qualsiasi esigenza avrà bisogno, durante la sua carriera di calcio, basket che sia Grazie alla stipula di tante convenzioni, con parte delle prestigioni importanti come i Zofinetti, in generale, al monte sport Sono per dirne tre, avrà tutto quello di cui avrà bisogno durante tutta la carriera di questi importanti Come ricordiamo il sito è ormai online da questo pomeriggio Quindi vi invitiamo ad andarla a vedere e le aspettative ovviamente speriamo le più rose Le aspettative direi che sono alte come tutte le cose, come tutte le novità Devo dire che è online da poche ore e nonostante non sia super indicizzato Infatti lo metteremo un po' più avanti nei motori di ricerca Però mi dicono che ha già avuto parecchie visualizzazioni E questo insomma è già un bel traguardo per un sito online da 4-5 ore Beh certo abbiamo visto anche personaggi che hanno appunto detto portone ospiti Che vengono anche da diversi posti d'Italia, da Roma, dalla Lombardia Dalla Toscana, da tante parti d'Italia, come piace a me Quindi noi ti facciamo il più grande in bocca al lupo Grazie, grazie mille E grazie tanto per averci invitato Grazie a voi, alla prossima